Sono Eliana Minelli, sono docente dell'Università Carlo Cataneo di Castellanza. Sono il coordinatore del progetto Skill Match Insubria, di cui la LIUC è capofila. Questo progetto riguarda il riallenamento delle competenze tra i due lati della frontiera italo-svizzera e riguarda proprio il problema molto sensibile dello sbilanciamento di competenze professionali che si riscontra nell'area italiana e nell'area svizzera dell'Insubria. Questo è un problema molto importante per le imprese del territorio che devono affrontare la globalizzazione, devono affrontare processi di innovazione molto rapida e quindi hanno la necessità di avvalersi di competenze di alto valore e devono quindi sul territorio trovare la possibilità di sostenere i loro processi di innovazione. Il nostro progetto che coinvolge insieme alla LIUC le università del territorio, ovvero l'Università dell'Insubria, la SUPSI e poi le maggiori istituzioni locali, permette quindi di affrontare questa tematica con una nuova prospettiva interdisciplinare e soprattutto cercherà di ottenere una migliore collaborazione tra le istituzioni dei due lati della frontiera e una maggiore disponibilità delle imprese del territorio a costruire nuove prospettive strategiche.